Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video Oggi grandissimi mei andremo a vedere assieme, anzi vedremo ancora, però andremo a parlare bene assieme della prima stagione dedicata ad Assassin's Creed Valhalla, ovvero la stagione del Festival di Yule Come sempre prima di iniziare ad analizzare bene questa nuovissima prima stagione di Assassin's Creed Valhalla ci mettiamo gli occhiali per l'indo studioso Grandissimi miei, oggi 17 dicembre inizia ufficialmente la prima stagione di supporto post lancio di Assassin's Creed Valhalla ho tirato un pugno al microfono, con il Festival di Yule Difatti grandissimi mei Ubisoft ha annunciato che l'inizio della prima stagione del Festival di Yule è appunto oggi 17 dicembre, una prima stagione che durerà bensì tre mesi offrendo a noi giocatori contenuti narrativi esclusivi ed eventi di gioco accessibili gratuitamente a tutti i giocatori quindi disponibili anche per chi non possiede Season Pass disponibili per tutti i giocatori e possessori di Assassin's Creed Valhalla Infatti grandissimi miei, da oggi potremo celebrare il Festival di Yule il Festival invernale di Yule, ok? Il primo contenuto infatti che offre Assassin's Creed Valhalla è questo Festival invernale stagionale vi ricordo che sempre Ubisoft fornirà e Assassin's Creed vedrà al suo interno degli eventi stagionali quindi in questo caso appunto un evento invernale un evento appunto che sarà disponibile fino al 7 gennaio quindi mi raccomando, abbiamo un piccolo lasso di tempo, fino a dopo le vacanze ecco, in cui in un'area dedicata all'insediamento ci sarà lo Yule Tide ovvero l'evento in sé nella quale noi giocatori potremo unirci ai festeggiamenti con nuove gare di bevute con un nuovo minigioco di tiro con l'arco con un torneo di lotta e due nuove missioni dei personaggi disponibili dell'insediamento ok? quindi due personaggi dell'insediamento e il nostro Ravenstrup avranno delle missioni nuove disponibili per noi inoltre si potranno accedere ad alcune ricompense aggiuntive tra le quali sette di equipaggiamenti, decorazioni per l'insediamento e molto altro ci sono dei requisiti per partecipare a questo Festival di Yule? sì, oltre a aver scaricato ovviamente la ultima patch che vi ho parlato anche in un video apposito noi giocatori dovremmo aver raggiunto l'Inghilterra almeno e aver completato almeno uno degli archi narrativi ovvero Grand British Shire o Led Chestershire in questo caso il Festival si attiverà e lo vedremo automaticamente quando visiteremo l'insediamento ok? cosa molto importante che vi dico già soltanto io in esclusiva ci sarà grandissimi miei un secondo aggiornamento che aggiungerà altri contenuti appunto per questa stagione dedicata a Yule la Yule Season chiamola così infatti a febbraio grandissimi miei senza data precisa ma a febbraio verranno aggiunte le razzie fluviali che sono appunto una modalità di gioco basata sulla meccanica principale delle razzie che offrirà però in più un'esperienza molto più dinamica, impegnativa e altamente rigiocabile infatti le razzie fluviali si baseranno principalmente sul reclutamento di vichinghi di Jomsborg che direi è una dinamica molto carina del gioco che praticamente è un'opzione che permette di ingaggiare i vichinghi di Jomsborg dagli amici online per formare il nostro equipaggio con appunto gli Jomsborg quindi diciamo i vichinghi dei nostri amici online e queste nuove razzie fluviali costano la modalità offrirà maggiore ricompense e diversi belli difficoltà i ranghi per i vichinghi di Jomsborg verranno aggiunti con il nuovo aggiornamento di febbraio anche quindi nella Yule Season vi sarà anche un aggiornamento alla funzionalità appunto ai vichinghi di Jomsborg che consentirà ai vichinghi stessi di Jomsborg di guadagnare dei punti esperienza a salire di rango e maggiore ovviamente sarà il rango e più argento si otterrà da quando i vichinghi di Jomsborg appunto saranno reclusati dagli altri giocatori e in più vi saranno nuove abilità e ricompense aggiuntive tutto questo però a partire da febbraio mentre già da oggi grandissimi è disponibile il festival di Yule con queste appunto nuove attività che ve l'ho detto prima e anche due nuove missioni appunto di personale di entrato in incendiamento quindi grandissimi è visto i moltissimi set di equipaggiamenti decorazioni eccetera eccetera disponibile arriveranno dei video appositi un primo sguardo arriverà nei prossimi giorni sul mio canale quindi mi raccomando non perdetelo per questo è tutto e ci vediamo presto con un prossimo video mi piacciono un bellissimo mi piace commentare e condividere con i vostri amici questo video iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per non perdervi nessun nuovissimo video grandissimi ci vediamo presto con un prossimo video ciao ciao